Sono in compagnia di mamma Simona e papà Peppe, genitori della piccola Miriam, una bambina cavese di soli 6 anni, purtroppo affetta da una cardiopatia congenica complessa. Avete voglia di raccontarci un po' la storia di Miriam? Miriam è nata con questa cardiopatia congenita e sta combattendo con essa da tutti questi anni. Ha subito già due interventi chirurgici in due ospedali diversi e si pensava che avesse risolto la sua problematica di salute. Ci avevamo creduto, dai vari controlli invece purtroppo tra un intervento e l'altro la situazione di mia figlia non è andata mai bene o almeno sia stata stabile per un certo periodo. In vista di un non lontano terzo intervento abbiamo pensato di rivolgerci a un grande centro mondiale di Boston con tutta la sua storia a riguardo di queste cardiopatie congenite e l'abbiamo fatto. Ci hanno proposto un intervento, una procedura di tecnica chirurgica in più rispetto ai precedenti interventi che ha fatto. Ci hanno dato una bella possibilità per Miriam e quindi abbiamo avuto questa chance in più per lei e la vogliamo intraprendere fortemente. Diverse associazioni sono partite in vostro aiuto iniziando dal piccolo raccogliendo dei fondi e poi invece voi avete concretizzato mettendo a disposizione un sito di crowdfunding. Allora la donazione può avvenire attraverso il sito buonacausa.org. Lì si può semplicemente donare attraverso un bonifico bancario, quindi c'è un IBAN oppure attraverso il Paypal. È molto semplice, basta andare sul sito, leggere la causa, la storia di Miriam. Che bambina è Miriam? Miriam è una bambina normale, una bambina di 6 anni che ha tutta la voglia di giocare, di fare delle cose. Le ama fare dei video, c'è una bambina che chi la vede ovviamente non si accorge di nessuna problematica. A settembre vorrebbero addirittura già inserire Miriam in un percorso. Perché all'ospedale di Boston prevedono una lista d'attesa di 4 mesi, per cui dobbiamo avere una tempistica di 4 mesi prima per poterla mettere in lista presso di loro. Intanto vi abbracciamo tutti uno per uno e niente, credete in questa causa. La ringraziamo di cuore.